Gran successo per le visite guidate al castello di Manfredonia aperto in occasione della Notte Europea dei Musei, l'evento a carattere nazionale che prevede l'apertura serale straordinaria di centinaia di luoghi in tutta Italia. Incapitanata la parte del leone l'ha fatta Manfredonia con un ricco calendario di manifestazioni destinati a tutti i tipi di pubblico, castello e basilica di Siponto, i luoghi aperti fino a notte fonda. Il direttore del Museo Nazionale di Manfredonia, Alfredo De Biase. Il Museo di Manfredonia, così come anche il Parco di Santa Maria di Siponto, fanno parte del Polo Museale. Noi siamo Polo Museale. I musei hanno cambiato volto, stanno cambiando prospettiva. È dal 2015 che è sorto il Polo Museale e quindi è il Polo stesso, in questo caso il Polo Museale della Puglia, che inizia a fare rete. E qui noi nella nostra capitanata, nella nostra dauna, siamo in riferimento del Polo Museale, siamo in riferimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e ci stiamo impegnando a fare rete, perché la rete è fondamentale. Non basti che si vada a visitare un museo in maniera sterile. No, il turista deve capire che ha un valore aggiunto tutto il territorio e per farglielo capire è importante fare sistema. Per l'edizione di quest'anno il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto hanno promosso per la prima volta in capitanata il coinvolgimento in rete di più musei con un programma congiunto di iniziative coinvolgendo i musei di Torre Maggiore e Foggia, Innocenza Stadace, Assessore Comunale di Manfredonia. Spero che la nostra comunità si renda conto di quanto sia prezioso quello che è a nostra disposizione e che impari a sentire questo luogo sempre più suo, a tutelarlo e a rispettarlo, a rispettare, io devo sempre ripetere le stesse cose, a rispettare i luoghi, il fossato del castello, tutto per renderlo sempre più bello per noi cittadini e per chi verrà a frequentare questi luoghi da fuori.